Quando allora nel Vangelo che voi avete scelto si parla di una casa fondata sulla roccia, si intende proprio una casa fondata su questa presenza di Dio che supera le nostre fragilità. Potremmo dire che la sabbia è il nostro amore colà minuscola e Dio è l'amore colà maiuscola. Il nostro amore è il nostro amore. Non per la Scheun Academy non per la Scheun Academy So Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti